L'esercito svizzero, in qualità di moderno datore di lavoro e formatore, è ospite di Expo Professioni a Lugano e della Fiera della Formazione di Zurigo. Ogni due anni, alla Fiera Professionale Expo Professioni di Lugano, vengono presentate più di 200 professioni dagli ambiti più disparati. Dall'agricoltura all'artigianato, dall'industria alla medicina. Anche quest'anno, tra gli espositori troviamo l'esercito svizzero. L'esercito è qui per mostrare ai giovani cittadini di questo cantone che offriamo appunto anche delle possibilità professionali. Professioni quale impiegato civile, professioni in uniforme, ma in particolare anche possibilità di formazione, possibilità di tirocinio in diverse unità organizzative. Nel padiglione riservato all'esercito, per cinque giorni i giovani possono gettare uno sguardo approfondito sul mondo professionale dell'esercito. Grazie a colloqui individuali possono ricevere informazioni in merito alla formazione e alle possibilità di impiego, nonché sui profili dei requisiti delle diverse professioni dell'esercito e l'esposizione è molto apprezzata dai giovani. Interessante e magari meglio che altri padiglioni che ci sono qua. Molto interessante, diverso dagli altri, anche come struttura dello stand è molto bello, ci sono tante informazioni. Per la decima volta, Expo Professioni avvicina i giovani e i loro genitori alle più disparate realtà lavorative e mostra delle possibilità concrete per l'imminente vita professionale. L'esercito è sempre un ospite apprezzato. L'esercito è un datore di lavoro molto importante anche per il carton ticino. Ci sono parecchi giovani che possono indirizzarsi in questa professione. Esistono diverse professioni in seno all'esercito. È pertanto un datore di lavoro importante non solamente per il ticino. A livello svizzero l'esercito offre più di 9.000 posti di lavoro e con circa 400 posti di formazione è uno dei principali attori anche per quanto riguarda la formazione professionale. Cambiamento di luogo. Atrio della stazione di Zurigo. Qui si tiene ogni anno la fiera della formazione di Zurigo. La fiera della formazione di Zurigo presenta un'ampia gamma di possibilità di formazione e di perfezionamento. La fiera della formazione ha l'obiettivo di scoprire tutti coloro che sono disposti a investire tempo e denaro nella propria carriera per avere anche in futuro delle buone prospettive sul mercato di lavoro. Nell'esercito si impara la condotta esercitandola effettivamente e non leggendo un libro sull'argomento. Abbiamo un approccio estremamente pratico. Per questo la scuola di condotta dell'esercito è la migliore scuola pratica di condotta in Svizzera. È un vero valore aggiunto che i giovani ufficiali portano con sé nella propria vita civile. Esattamente nello spirito del nostro sistema di milizia. Sfruttare in modo ottimale le sinergie tra l'ambiente civile e quello militare. Sia nella scelta della professione sia nelle possibilità di perfezionamento l'esercito svizzero è sempre in prima linea e non solo per questioni o interessi militari.